A mezzogiorno il ciclista ha impegnato l'incrocio mentre arrivava la moto. L'impatto è stato violento e per il 76enne in sella alla bicicletta la morte è arrivata probabilmente sul colpo. L'incidente di Santa Giustina in Colle è avvenuto nei pressi della ciclabile Ostiglia in via Ceccarello. La moto, condotta da un 28enne residente all'Oreggia, non è riuscita ad evitare l'impatto e nonostante i soccorsi del SUEM la tragedia si è compiuta in un attimo nelle immagini di Padova oggi. Sul posto per i rilievi necessari ad appurare le cause dell'incidente la polizia locale. Nelle belle giornate la ciclabile Ostiglia è una delle mete più frequentate ma il grande pericolo è rappresentato dai tanti attraversamenti a raso che rendono il tracciato non completamente sicuro.